Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui torniamo a parlare di un aereo italiano torniamo a parlare del suo servizio all'estero, torniamo a parlare ancora una volta del gigetto del Fiat G50 uno dei caccia di generazione intermedia, un aereo di transizione, un aereo come sapete bene non propriamente esaltante ma che si fece anni di dura anzi durissima guerra in mano alla regge aeronautica in mano alla Suomen Ilma Voimat, l'aviazione militare finlandese ma anche in mano ad una aviazione decisamente poco nota e poco ricordata ovvero sia la LAH, la legione aerea croata Nino Arena, allora io devo essere sincero, Nino Arena a scanso di dubbi, a scanso di equivoci Nino Arena è personaggio e storico quantomeno discutibile e eufemismo per dire che spesso e volentieri si comporta come un trizzino aviatorio e non è propriamente un complimento Quando però si tratta di fonti documentali, quando però si tratta di tabelle, di dati tecnici è una buona fonte quando si tratta di dati tecnici soprattutto perché fornisce tutta una serie di tabelle, tutta una serie di documenti tutta una serie di relazioni che è un po' difficile per uno come me che non frequenta gli archivi trovare Io la prima volta che avevo sentito parlare della legione aerea croata è stato una ventina d'anni fa leggendo Aerei nella storia un articolo di Nico Sgarlato in cui si parlava brevemente della storia di questa forza aerea decisamente poco nota, decisamente poco conosciuta che ebbe in dotazione un mix di aerei italiani e tedeschi che venne usata sul fronte orientale, diciamo contro l'Unione Sovietica ma che fece soprattutto la propria guerra come anti-guerriglia come in funzione anti-guerriglia, in funzione anti-partigiana Nino Arena, ripeto, è uno dei pochi ad affrontare la questione della LH della legione aerea croata Ci fornisce alcuni documenti, ci fornisce un breve resoconto di questa piccola forza aerea semidimenticata e poco nota, almeno qua in Italia Allora, le forniture, ci dice Arena le forniture di materiale bellico alla Croazia iniziano più o meno nell'ottobre 1941 la legione aerea croata, la sigla è L-A-H non mi chiedete di tradurre la cosa in croato io ci ho provato, non ci riesco la chiameremo L-A-H ok? Allora, la legione aerea croata vale a dire la nuova organizzazione aeronautica creata dallo stato croato dallo N-D-H il libero stato di Croazia tradotto in macelleria a cielo aperto sarebbe meglio però richiedeva tramite il capo della missione militare italiana presso il regno di Croazia il generale di brigata Oxilia un notevole quantitativo di materiali militari italiani comprendenti tra l'altro 10 carri M13 10 autoblindo AB41 cannoni contro carro mortai stazioni RT munizioni e aerei da caccia bombardamento collegamento e scuola la richiesta veniva accuratamente vagliata sotto tutti gli aspetti politici, militari, diplomatici convenienza operativa e pratica e venne soprattutto considerata per motivi di accentuata perplessità che le autorità italiane nutrivano in elevata misura nei confronti dello stato croato della lealtà di molti suoi reparti sulla scorta fra l'altro dei numerosi episodi di defezione che si erano verificati in precedenza col passaggio armi e bagagli di interi reparti regolari nelle file del movimento partigiano titino qui però Arena si dimentica anche di dire una cosa la pesante influenza la pesante e sgradita nonché sgradevole influenza tedesca negli affari croati il duce e il fascismo ritenevano i Balcani come il proprio giardino di casa come il proprio parco giochi preferenziale i tedeschi non erano assolutamente dello stesso avviso e si diedero molto da fare per garantirsi i favori del sanguinario Poglavnik ante Pavelic ripeto lo stato libero di Croazia o regno di Croazia sigla N.D.H. non era uno stato ripeto era una macelleria a cielo aperto i tedeschi se ne fregarono bellamente delle pretese italiane i croati e Pavelic se ne fregò bellamente delle pretese italiane e provvide subito a mettersi sotto il non mi fate non mi fate dire brutte cose diciamo corse immediatamente a mettersi sotto il ben più protettivo ombrello tedesco rispetto al insomma rispetto al parasole italiano un bell'ombrellone tedesco ci voleva vabbè scusa non dovrei fare ironia su certe cose ma ci scappa allora la situazione politica strategica e militare balcanica destava molte e gravi preoccupazioni nei comandi italiani che ritenevano infidi opportunisti e sleali gli slavi deprecavano vivamente i loro metodi di guerra non condividevano le feroce lotte razziali che diladiavano serbi e croati cristiani musulmani monarchici e comunisti e qui veniamo a fare un piccolo debunking a Nino Arena Nino Arena dice ne erano parte in causa e lo alimentavano questo è uno dei libri di riferimento ma potete anche prendere ad esempio un qualsivoglia libro di Raul Pupo ad esempio Adriatico amarissimo ma continuiamo c'era però da considerare nel problema una serie di ragioni a carattere politico e di alleanze militari molto importanti in quanto il nuovo stato di Croazia era stato patrocinato e inserito nell'orbita italiana più o meno ripeto più o meno faceva parte integrante del patto tripartito e non poteva quindi essere disatteso o contestato dal governo italiano in taluna richiesta specialmente di carattere militare il rifiuto eventuale da parte italiana a fornire il materiale bellico richiesto avrebbe alterato ancora di più i rapporti fra Croazia e Italia e fatto aumentare l'influenza germanica nei Balcani cosa che Benito non voleva assolutamente perché sicuramente i tedeschi non avrebbero avuto le esitazioni degli italiani a fornire materiali bellici di cui abbondavano per i numerosi bottini di guerra accumulati tra il 39 e il 41 fu quindi inevitabile aderire il gioco forza alla richiesta croata modificando però la lista dei materiali bellici con l'includere in sostituzione di particolari materiali armamenti dotate di caratteristiche tecniche e superate qualità bellica venne respinta la richiesta di carri M13 e delle AB41 che però oggettivamente a noi servivano in Libia mannaggia la mort mannaggia all'arriva degli schiavoni porca miseria va bene cedendo al loro posto 10 carri leggeri Fiat L3 ovvero sia 4 L33 e 6 L35 per gli aerei venne ugualmente respinta ogni richiesta di materiale moderno e si preferì consegnare 10 caproni CA311 usati da trarre dai reparti di esercitavia mentre il CEA ovvero sia il Consorzio Italiano Esportazioni Aeronautiche venne autorizzato ad aprire trattative per vendere alla Croazia velivoli G50 in cambio di MC200 e Avia FL3 come velivoli scuola i 10 CA311 vennero forniti da esercitavia e tratti dalle squadriglie da osservazione aerea 41 e 122 e dalla scuola di osservazione aerea di Cerveteri i velivoli caproni consegnati portavano le seguenti matricole militari 11 520 11 555 11 563 11 564 11 569 11 570 11 571 11 575 11 582 11 584 i velivoli Avia FL3 di nuova costruzione erano contraddistinti invece dai numeri di serie 8.001 8.005 e 8.101 8.105 nelle due versioni con capottina aperta 5 esemplari e con tettuccio 5 esemplari vennero ceduti anche 36 Böfer BU 131 Youngman ex Predabellica Jugoslavia al prezzo di 95.000 lire cada uno e venne respinta la permuta di un SM 79 ex Reale Aviazione Jugoslava in cambio di 6 addestratori CR30 il trimotore venne poi incluso nel computo generale dei Böcher 131 degli Youngman dopo opportuna valutazione sulle condizioni tecniche e generali del velivolo andata in porto con l'avallo delle autorità militari aeronautiche italiana la cessione dei 10 Fiat G50 i velivoli consegnati composti da 9 monoposto e un biposto ebbero le seguenti matricole militari di identificazione G50 BIS 6203 fino a 6211 e matricola militare 6477 per il G50 a biposto risultavano completi di accessori paracadute apparati radiotrasmittenti vi erano inoltre quattro motori di riserva Fiat A74 RC 38 particolari di ricambio e un notevole stock di munizioni per i CA311 vennero ceduti 60.000 spezzoni esplosivi stazioni RT RA 350 RGP 63 N dopo le prime consegne la LAK avanzò un'opzione per altri 2 G52B e 10 SA 202 le trattative da parte croata vennero condotte dal generale Kren comandante della legione aerea croata che cappeggiava la missione aeronautica inviata in Italia e composta dal colonnello Pavel Cenci dal tenente colonnello Vladimir Lorin dal maggiore Adolfo Tudor parente dell'ex calciatore della Juventus nonché ex allenatore della Lazio vabbè scusa scusa le mie fissazioni calcistiche bene pazienza Nicola Michek e Vinco Bulat la missione visitò gli stabilimenti dell'Air Italia e motori Avio prese visione del materiale ceduto e stabilì le condizioni di pagamento in clearing secondo gli accordi valutari intercorrenti tra Italia e Croazia mentre proseguivano le laboriose trattative per convincere le dubbiose autorità italiane accedere altri materiali bellici ed altri aerei un gruppo di piloti della legione aera croata al comando del capitano Vladimir Bosner con i subalterni Tomic Milnan Vicko Krelia e del maresciallo Piler Juno iniziavano a prendere confidenza col velivolo G50 presso il campo di Pisa San Giusto Nella primavera del 42 vennero consegnati i CA 311 e gli FL3 mentre l'Aeritalia approntava il lotto di nove monoposto G50 presso le officine torinesi e la Cmasa di Marina di Pisa consegnava il G50B presso l'aeroporto di Pisa da dove al comando del sottotenente Gino Laferla e avente come passeggero il capitano Bosner decollava alla volta di Torino per unirsi al gruppo dei G50 monoposto in attesa sul campo volo della Fiat i piloti per il monoposto vennero tratti dal settimo gruppo complementare per la caccia di Veneria Reale e dal 151 gruppo caccia terrestre del 53 stormo di Caselle e posti al comando del capo missione tenente colonnello Giacchino i piloti italiani che portarono i G50 in Croazia erano il capitano Mario Ferrero il maresciallo Mario Montanari i sergenti maggiori Mario Turchi Ernesto De Bellis Antonio Camerini Vincenzo Graffeo Ottorino Ambrosi e Luigi Rossi il gruppo dei G50 decollò da Torino a Eritalia nella mattinata del 12 giugno 42 diretto a Udine Campoformido sulla direttrice Milano Ghedi Boscomantico Vicenza Treviso Motta di Livenza sulla cui verticale i nove monoposto dirottarono a sinistra verso Udine mentre il G50B con a bordo anche il capitano Bosner deviava verso Gorizia Merna il piano di volo predisposto alla partenza prevedeva il decollo il giorno successivo da Udine per Gorizia per rilevare sulla verticale di Merna il G50B in attesa l'attraversamento in formazione del confine in direzione di Ljubljana Novo Mesto Zagabria Borongai tappa finale del trasferimento per una serie di gravi circostanze politiche però il programma subì però una certa variazione tenetevi forte tenetevi molto forte il capo di stato maggiore generale maresciallo Cavallero il nostro prode Ugo il sommo Ugonzo uno degli uomini c'è vabbè uno tanto intelligente quanto corrotto e deleterio ma vabbè lasciamo stare dicevo il capo di stato maggiore generale maresciallo d'Italia Ugo Cavallero venuto a conoscenza venuto a conoscenza della cessione dei caccia G50 alla Croazia pose improvvisamente il suo veto ed inviò un telegramma urgente al gabinetto del ministero aeronautica presso lo stato maggiore al generale auxilia presso le missioni militari a Zagabria e per conoscenza indovinate un po' chi a lui al nostro viscidone principe al sommo Roatta il generale Mario Roatta porca miseria che era comandante della zona militare Slo da che sta per Slovenia Dalmazia mettendo in guardia gli interessati sulla questione degli aerei dedicati alla legione aerea croata cioè allora scusate scusate Ugo do cacchio stavi quando c'erano tutte le trattative tu sei allora Cavallero era il capo di stato maggiore generale è in atto una trattativa politicamente e militarmente molto importante e anche economicamente economicamente molto importante che vedeva la fornitura di materiale aeronautico al regno di Croazia che ricordatevi teoricamente ma sottolineo teoricamente re di Croazia con il nome di Zvoni di Tomislav primo si sarebbe dovuto chiamare Zvonimir era Aimone d'Aosta era Aimone Aosta cioè che si rifiutò di mettere piede nel suo regno perché sapeva bene che lui diceva sedersi sul trono a Zagabria vuol dire semplicemente sedersi su una bomba pronta ad esplodere chiamalo scemo vabbè che vi devo dire ecco ci si mette di traverso in maniera improvvisa ed improvvida cadendo dal pero il nostro prode cavallero scusate la rima allora in verità l'iniziativa tardiva del capo di stato maggiore generale si era rivelata allarmante e inopportuna a dir poco ed aveva creato delicatissimi problemi diplomatici e formali ai vari organismi interessati allora tenetevi forte il telegramma del capo di stato maggiore generale il telegramma di Ugo il nostro Ughetto il nostro Ugonzo l'uomo dalle tasche sempre piene di strane buste bianche e non solo le tasche erano gonfie erano gonfie anche le buste ok diceva da comando supremo in conseguenza nota defezione con passaggio at ribelli alcuni veicoli croati et avviso espresso da eccellenza roatta che defezioni possano ripetersi dieci apparecchi G50 acquistati codesto governo et in via trasferimento sono stati temporaneamente fermati at Udine et Gorizia in base vostra conoscenza ambiente et sensazione spirito lealtà piloti croati et principalmente tenuto conto eventuali misure prese codesto governo per evitare ulteriori defezioni le quali tanto più perpetrate con tali moderni apparecchi comprometterebbero gravemente sicurezza nostri aerei trasporto indifesi prego esprimere punto di vista opportunità far proseguire o meno predetti dieci velivoli firmato Ugo Cavallero cioè ce ne vuole di stomaco a definire moderni i Fiat G50 nel 1942 ce ne vuole di stomaco ma io qualche sospettino sul perché di questa uscita di Cavallero ce l'ho e non è solo per via delle defezioni dei piloti croati e ripeto ce ne vuole veramente di stomaco a definire moderno il G50 nel 42 Ugo signore 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 fu necessario attendere sui suddetti aeroporti sino al 25 giugno prima che le autorità italiane si convincessero attraverso un continuo afflusso di informazioni notizie rassicurazioni e garanzie che la cessione dei G50 non presentava eccessivi motivi di futura preoccupazione e rilasciassero il necessario nulla osta per perfezionare l'operazione di consegna dei G50 all'aviazione croata allora cari signori io che vi posso dire come ben sapete ho sempre considerato eh quanto meno maldestra quanto meno eh diciamo così improvvidamente incapace la nostra come dire la nostra diplomazia la nostra politica estera la nostra insomma il nostro avere a che fare con stati con stati esteri diciamo che l'Italia fascista non fu sicuramente non brillò sicuramente per capacità diplomatiche ma qui veramente siamo oltre i livelli del ridicolo e del grottesco il prode Ugo cade dal pero Ugo Cavallerza no io teoricamente dovrei essere una persona seria quando racconto queste cose ma eh c'è santo cielo c'è come fai a non farti prendere dallo sconforto cioè dopo una trattativa durata mesi in cui i croati fanno richieste precise in cui il ministero dell'aeronautica in cui la regia aeronautica in cui l'industria italiana con cui Cavallero aveva proficui intensi intensi e soprattutto fruttuosi contatti e io continuo a chiedermi cosa sono quelle buste bianche che rigonfiano le tasche della divisa del nostro caro maresciallone vabbè scusate la digressione non dovrei dirlo però a un certo punto Cavallero si sveglia e dice ah scopro che abbiamo seduto dieci modernissimi G50 alla Croazia sì ma io non ne sapevo nulla cioè allora già il fatto che il capo di stato maggiore generale delle forze armate italiane non sappia dica di non avere saputo niente della cessione di questa alicota di velivoli di produzione italiana ripeto addestratori SAI 202 addestratori Avia FL3 bimotori caproni CA 211 e soprattutto questa decina di G50 Cavallero ripeto casca dal pelo e dice ah ma ci sono state delle defezioni ci sono stati dei disertori alcuni piloti croati sono scappati per unirsi ai titoisti io preferisco dire titoisti rispetto a titini lo trovo più esatto lo trovo più corretto ma vabbè dicevo ci sono state ci furono è vero delle defezioni di piloti croati e di reparti delle forze armate croate per unirsi ai titoisti per unirsi ai partigiani o monarchici o comunisti ci furono indubbiamente ma è il fatto che il capo di stato maggiore generale fermi a un passo dal confine il trasferimento dei freccia dei G50 in Croazia perché lui non ne sapeva niente perché lui non si fidava dei croati perché lui diceva ma chi ci dice che i croati con questi moderni aerei non non disertino allora uno come ho già detto prima definire moderno il G50 nel 1942 vuol dire essere letteralmente fuori dal mondo due essere il capo di stato maggiore generale e non sapere che un'importante commessa per la nostra industria viene fatta cioè per la nostra industria per le nostre forze armate anche viene fatta da uno stato alleato e lui dice ah ma io non ne sapevo niente io la fermo perché non posso permettere che eventualmente dei piloti croati possano disertare e consegnare i nostri modernissimi G50 ai titoisti cioè santo cielo cioè io rimango sconcertato stupito sbalordito agghiacciato da questa cosa ma veramente ma veramente c'è allora se Cavallero era in buona fede e permettetemi conoscendo il personaggio di avere qualche dubbio in proposito qua c'è l'ennesima dimostrazione dell'inefficienza burocratica italiana con il capo di stato maggiore generale che viene a sapere della commessa croata il giorno stesso in cui i G50 vengono consegnati alla legione aera croata e li ferma giusto prima del confine prima che vengano trasferiti in Croazia perché perché non si fida perché ha paura che quei G50 possono essere usati cioè possono essere consegnati al nemico titoista agghiacciante cioè converrete con me che la cosa è agghiacciante io non dico allora cioè come fa come può il capo di stato maggiore generale non essere a conoscenza della consegna alla Croazia di questa aliquota di caccia uno due non lo sa chi è che non glielo ha detto chi è che dove si sono persi tra la commissione dell'aeronautica che preparava come se nulla fosse le consegne ai croati e il capo di stato maggiore generale dove si sono perse le comunicazioni dove sono finiti i documenti cioè lui scopre Cavallero dice oibo consegniamo ai croati maresciallo Cavallero noi stiamo consegnando ai croati 10 G50 ma io non ne sapevo nulla fermate tutto cioè io la trovo agghiacciante questa cosa la trovo agghiacciante detto va bene Cavallero non poteva sapere tutto verissimo ma porca miseria porca miseria c'è bisogno di un'ulteriore dimostrazione della contorta e grottesca complicazione che c'era tra i vari comparti della nostra macchina militare l'amico Giovanni Cecini nel suo i generali di Mussolini ha ampiamente parlato della catena di comando contorta contraddittoria fumosa e complicata dell'esercito italiano e Nino Arena in questo libro ce ne dà un'ulteriore breve e piccola dimostrazione l'ennesima e ripeto e sottolineo l'ennesima brutta figura interna fatta dalla nostra macchina burocratica tutto qua continueremo nel prossimo video a parlare dei del gigetto in servizio con i croati racconteremo brevemente la loro storia parleremo di alcune relazioni relative al servizio e all'immissione in servizio dei G50 nell'aviazione croata quindi io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione vi do la rivederci al prossimo video mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi a questo accidente di canale io vi aspetto qua con ansia e spero che questo video vi sia piaciuto ripeto come sempre come sempre come sempre e commentate qua sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate commentate 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 e non mi rimane altro da fare che chiudere mandandovi il più grande il più forte il più caloroso dei miei abbracci e soprattutto ciao